Seduta del 12 giugno Relazione del difensore civico Il 13 giugno I storici d'arte Claudio Bertolotto e Franco Monetti E il critico d'arte Arabella Cifani Hanno presentato il volume di Monsignor Giuseppe Ghiberti Marianna Fontanella Beata Maria degli Angeli Storia, spiritualità, arte nella Torino barocca Comunicati dal Piemonte Per valorizzare la comunicazione della pubblica amministrazione E fornire ai cittadini piemontesi un servizio sempre più completo Il Consiglio regionale ha deciso di inserire sull'home page del proprio sito internet I comunicati emessi dagli uffici stampa dei enti pubblici della regione Cliccando su www.cr.piemonte.it Si trova in basso a sinistra la sezione Comunicati dal Piemonte Con gli ultimi tre documenti caricati su Mente Locale Servizio ideato e fornito con l'obiettivo di valorizzare la comunicazione pubblica E l'informazione giornalistica regionale Novità al Bookshop del Consiglio Una ventata di colore ha investito la ricca offerta di gadget marchiati Consiglio regionale Le cornette retro, super vivaci da collegare a un moderno cellulare Sono il pezzo forte della vetrina di Via Arsenale 14 Insieme agli orologi da polso, slepon, alle micropenne da appendere al collo E gli ombrelli pieghevoli colorati Ma si vendono anche i tacquini a spirale con l'immagine di Palazzo Lascaris Le magliette, gli zainetti e gli orologi da tavolo con il logo del Consiglio